italiana sport per tutti nel progetto capitano uncino gambe di legno vende sugli occhi e uncini nel mondo dei pirati o meglio della filibusta tutte le disabilità avevano ruoli e collocazioni utili a bordo dal capitano al nocchiere allo stromo fino al mozzo si ispira a questa tradizione capitano uncino il progetto wisp che ha coinvolto ragazzi e ragazze con e senza disabilità per realizzare delle vere imbarcazioni ognuna con la sua ciurma il maestro d'ascia giorgio d'andrea gli abbiamo dato proprio quello gli abbiamo dato la possibilità di andare a mare però con una cosa costruita da loro che non è da tutti quindi la soddisfazione è proprio quella cioè loro non vanno su una barca già fatta loro vanno sulla barca costruita da loro le barche sono state varate ieri a pesaro civita vecchia e santa maria di leuca stamattina scoglitti frazione di vittoria una barca realizzata a brescia era stata già varata nei giorni scorsi sul lago di seo il presidente wisp tiziano pesce un'ulteriore testimonianza di come lo sport sociale di come lo sport per tutti sia assolutamente inclusivo federico mello gr1 grazie a tutti grazie a tutti Grazie.